Amici di Player Inside, abbiamo parlato più volte di miti da sfatare. Sì, che bello ragazzi, è un bellissimo argomento, ne abbiamo parlato tante volte con grande interesse da parte vostra e anche nostra, perché ci andiamo a ripercorrere quelli che sono appunto i miti da sfatare, tutte le bufalazze. Esatto, parliamo proprio di bufale, cioè falsità che ora noi andremo a smontare del tutto. Il primo Super Mario conclude ogni livello con la bandiera, la famosa bandiera, che non si può superare, cioè voi potete saltare più in alto possibile, anzi dovreste saltare più in alto possibile per sbloccare del punteggio, ma non potrete saltare oltre. Ebbene, si era diffusa la credenza che superando la bandiera si potessero sbloccare degli extra, oppure nuovi livelli, eccetera. Questo non è possibile, è stato totalmente smentito, si può superare la bandiera, ma questo è solo un glitch, non succede assolutamente nulla. No, anzi dovrete tornare indietro e aggrapparvi alla bandiera. Appunto, esatto. Che è una funzione che poi hanno sbloccato nei vari Super Mario. Poi hanno messo Cat Mario, cioè lui, affermatica, che si può arrampicare sulla sommità della bandiera. Bravo, rendiamo facilissimo Super Mario, brava Nintendo. Rimaniamo in tema Nintendo, Nintendo 64 con GoldenEye 007. Un ottimo FPS per l'epoca. Esatto, e c'è appunto una bufala che poi è stata sfatata, ovvero nel livello della diga si intravede, cioè si vede proprio un isolotto sulla distanza che sembra raggiungibile. E quindi la gente ha iniziato a pensare, ma chissà che cosa c'è, ma chissà che cosa non c'è su questo isolotto. Soprattutto chissà che cosa non c'è. Infatti non c'è proprio niente, anzi è proprio irraggiungibile l'isolotto se non utilizzando i cheat. Quindi mettetevi il cuore in pace se per caso possa essere la prima volta per voi in GoldenEye 007. Ma rimaniamo in tema GoldenEye 007. Il menu dei cheat faceva pensare, lasciava intendere che si potessero inserire 24 cheat, invece in realtà se ne potevano inserire solo 23. E allora qual è il 24esimo cheat? In molti hanno ipotizzato che potesse sbloccare l'ultimo cheat fantomatico tutti i personaggi di James Bond, cioè tutti gli attori di James Bond, nella modalità multiplayer. Anche perché nei primi screenshot che aveva mostrato Nintendo si vedeva proprio Sean Connery, che poi non c'è nel gioco. Sì, che è stato uno dei primi o il primo James Bond? Forse il primo, ora non vorrei dire una baginata perché non sono esperta proprio del film James Bond. No, no, neanche io. Al di là di questo, perché c'è la Sean Connery e poi no? Semplicemente perché Nintendo poi non ha acquisito i diritti. Esatto, quindi si trattava di questo. Quindi anche questo codice in realtà non faceva nulla. Non esiste. Ragazzi, qui parliamo di una bufala da aspatare, che in realtà era più ascrivibile all'ambito dei gadget, dei giocattoli relativi ai videogiochi. Parliamo della spillina che avrebbe dovuto suonare con un messaggio, chissà quali onde magnetiche sonore sarebbero dovute arrivare a questa spilla, attraverso appunto un messaggio promozionale. E far suonare questa spillina di Sonic avrebbe fatto vincere dei premi al fortunato di turno. Questo accadeva durante delle puntate di Bim Bum Bam, non mi ricordo. È un programma degli anni 90 che noi seguivamo quando eravamo bambini. Dobbiamo spiegarle queste cose. Eh sì, perché magari c'è chi è nato nel 2000 e non lo sa. Sì, ma dovete conoscere Bim Bum Bam. Cioè non è che io non conosco il carosello solo perché negli anni 60 non c'ero. Non c'ero. Esatto. Ragazzi, eh? Quindi, in Bim Bum Bam c'era la pubblicità del Sega Master System, del Sega Mega Drive, insomma della Sega. Fatto sta che non suonava, non poteva suonare. Cioè in base a cosa? Partiva il messaggio in televisione e che cosa succedeva? Che un suono avrebbe dovuto far suonare stimolando attraverso raggi come gamma? Non era collegato a internet. Non era, no. Non c'era internet. Ma internet, ma di che signori? Quindi in base a cosa avrebbe dovuto suonare? Non c'erano neanche intelligenze artificiali come ok Google o Siri o Alexa. Quindi no. Era una vera e propria bufala. Era una bufala, ma di quelli proprio potenti. Cioè ci prendevano in giro, io rimanevo lì aspettando che cosa? No, io non ce l'avevo. Neanche io. Però ero invidiosa. Ce l'aveva un amico mio, ce l'aveva un amico mio nello stesso palazzo e ci riunivamo a casa, in realtà era a casa di mia nonna dove stavo io, per vedere se questa spilla suonasse oppure no. Campa cavallo. Non suonava mai. In Fallout 3, se scegliete di uccidere tre cani il DJ e distruggete Raven Rock, ogni tanto la radio trasmetterà dei codici morse. Secondo alcuni si tratta di predizioni di eventi reali. Alcuni di questi in effetti sono veri codici morse che tradotti conducono a segreti del gioco, ma altri sembrano delle date. Secondo una prima bufala, uno dei codici avrebbe predetto la data di morte di Gary Coleman, un altro avrebbe predetto l'esplosione della raffineria nel Golfo del Messico, realmente accaduta nel 2010. Perché sappiamo che è tutto falso, nonostante alcune predizioni siano reali? Perché innanzitutto Bethesda ha smentito tutto, quindi ufficialmente smentito, ma poi anche perché una delle predizioni era della morte della regina Elisabetta nel marzo del 2014. E tutti noi sappiamo che la regina Elisabetta è immortale. Esatto. Però magari dopo sto video, non lo so, non vorremmo portare... Vabbè, facciamo le cornata, insomma, però a un certo punto sarebbe anche naturale, fisiologico. Sì, però è passato a marzo del 2014. È passato a marzo del 2014. Ragazzi, ma perché tutti questi complottismi anche attorno ai videogiochi? La rivista Electronic Gaming Monthly di cui abbiamo parlato riguardo alla bufala di Shang Long in Street Fighter 2 aveva diffuso un'altra bufala, ovvero la possibilità di usare Akuma in Resident Evil 2. Secondo EGM, questo è l'acronimo della rivista, per sbloccare Akuma si sarebbero dovuti finire entrambi gli scenari di Resident Evil 2 sei volte col coltello e la pistola. e Akuma avrebbe potuto usare i Gohado-kens invece della pistola. Oh, Gohado-kens. Ma fantastico, cioè immagini! Questa cosa sarebbe meravigliosa. Sì, sì, sì. Infatti anche nel remake di Resident Evil 2 hanno inserito Akuma con delle mod. Sarebbe stato molto bello, ma era una bufala quindi. Era una bufala, cioè non era vero. Vabbè, poi le mod rendono possibile un po' tutto. Che so, Goku in FIFA. Però, e qui entriamo in un ambito che in effetti è la nostra passione, ovvero Mortal Kombat. La serie di Mortal Kombat, recuperate questo video che è giallato pure questo, però è simpatico perché anche una parte della rubrica Replayer Inside, Ultimate Mortal Kombat 3, ragazzi, un tuffo nel passato in mezzo a sangue e fatality. Fatto sta che parliamo di Mortal Kombat e di un errore che all'inizio si pensava fosse un nuovo personaggio. Esatto, un personaggio nascosto. In pratica per un glitch Scorpion a volte appariva rosso. Sì. E con la scritta, cioè col nome Ermac. E allora in tanti pensavano che fosse proprio un personaggio segreto. Cercavano di capire cosa avessero fatto per ottenere quel personaggio. È un bel niente. Cioè cosa non avevano fatto. Cioè non avevano sistemato il glitch per ottenere quel personaggio. Quindi spuntava e Ermac stava per Error Macro. Quindi durante lo sviluppo del gioco si erano scordati. Non avevano saputo correggere evidentemente questo errore. Ma non tutti i mali, non tutti in questo caso gli Error Macro vengono per nuocere perché si è creato proprio il personaggio Ermac che sta per Error Macro nelle versioni successive di Mortal Kombat. Però in Mortal Kombat 3 se non sbaglio è stato proprio per accontentare tutti gli affamati di Ermac che giustamente si sono sentiti un po' illusi, ecco. Ma questa, diciamo, questa chicca può rientrare di diritto anche nella top degli errori che hanno portato poi a delle soluzioni dei videogiochi. E magari ne riparleremo. E ne riparleremo perché ce ne sono tanti. A inizio 2005 Nintendo non aveva ancora presentato Wii, quello che sarebbe dovuto essere il successore di Gamecube. Non un successo commerciale, se vogliamo. Nonostante sia stata una console favolosa, almeno per noi Gamecube nel cuore. Nonostante anche la sua forma squadrata. Va bene. Bellino. Fatto sta che poi Wii venne presentato, non mi ricordo se in occasione dell'E3 2005 o di altre fiere, diciamo, del videogioco, prima soltanto il controller e poi la console o il contrario. Fatto sta che la presentarono a rate e prima di fare tutto questo però si erano sparse diverse voci su Nintendon. Addirittura Nintendo veniva chiamato, Nintendo Wii veniva chiamato Revolution perché doveva essere chissà quale rivoluzione. Per certi versi lo è stata. Sì. sensori di movimento da cui poi tanti hanno preso spunto. Insomma è stata una piccola bella rivoluzione ma Nintendon appunto doveva essere il vero Revolution della situazione. In realtà era un casco virtuale creato da un utente, da un amatore che aveva fatto vedere, aveva moltiplicato per un numero indefinito di volte la grafica del Nintendo 64 e del castello di Peach. Questo per far capire la potenzialità di calcolo, diciamo, di Nintendo Wii che per realtà non era tutta sta gran cosa perché Nintendo Wii era più o meno paragonabile a una PlayStation 2. Puntava su altre cose. Puntava su altre cose. Ma Nintendo aveva fatto buon gioco a non rispondere a tutti coloro che pensavano che effettivamente questo casco Nintendon potesse essere effettivamente la console ufficiale. Anche perché era stato fatto bene, il video comunque di presentazione era piuttosto credibile, anche se diciamo la verità noi non c'eravamo cascati. No, noi non c'eravamo cascati, beh, beh, ti posso dire, ti posso dire oggi non ci cascheremmo più però, è un hoax quanto una casa. Fatto sta che Nintendo chiamò poi il creatore di Nintendon perché gli era piaciuta l'idea, insomma, per premiarlo a modo suo perché non sappiamo che fine fece, probabilmente lo uccisero negli studi di Kyoto perché no, tu sei troppo bravo quindi devi morire. Nella prima puntata dei miti da sfatare abbiamo parlato della nude mode di Lara Croft, Tomb Raider, che non esiste in realtà, eccetera. C'è un altro gioco per cui molti fan avrebbero voluto un cheat per denudare le protagoniste, ovvero Dead or Alive Extreme Beach Volleyball per Xbox. Già sono praticamente nude, hanno solo un costume da bagno. Ma poi posso dire una cosa, quel vedo o non vedo secondo me è pure migliore. No? No, loro volevano vedere il capezzolo, caro bene. Volevano vedere proprio il seno nudo. La cosa triste è che poi in tanti si sono infuriati perché il cheat appunto non esisteva e era come se gli fosse stato promesso. Esatto, perché Electronic Gaming Monthly, cioè sempre la rivista di cui abbiamo già parlato prima, aveva approfittato di questi creduloni per diffondere questo cheat che però non funzionava e quindi in tanti sono proprio imbufaliti. Ah ah, comunque sì, un po' sfigatelli, se devo dire, cioè vi imbufalite con una rivista perché ha scherzato sul fatto di poter denudare delle protagoniste in video giù. Ok, ma non esisteva io poi Pornhub, tutte queste cose non esisteva. Ma ragazzi, capisco. Capisco, allora capisco, perché pure io a 13 anni cercavo di far denudare Lara Croft, però poi l'immaginazione faceva il suo, dai. Comunque vi ringraziamo per essere stati con noi per questa top e vi ricordiamo che stasera c'è il live, giusto? Esatto, quindi vi aspettiamo su Twitch. Su Ramlo di Rammaccio. Alle 22.30. Mi raccomando, non mancate. Dobbiamo prendere in giro qua YouTube. Dobbiamo fornire la pappa pronta per i bollini gialli. Ciao.